C'era una casetta di pietra e fango, c'era una fanciulla di nome Maria e c'erano gli animali nel cortile. Quel giorno di duemila anni fa, a Natate della Galilea, accadde qualcosa di molto importante. Chi-chi-ri-chi, chi-chi-ri-chi, chi-chi-ri-chi. Grazie Galletto, se non fosse per te, dormirei fino a tardi. Chi-chi-ri-chi. Grazie anche a voi, mie gallinelle, per le uova che mi date ogni giorno. Coccoletto, coccoletto, coccoletto. Adesso vi lascio, ma tornerò più tardi. Coccoletto, coccoletto, coccoletto. Silenzio, adesso parlo io. Mi è sembrato di vedere un grande colombo, è volato nella casa di Maria, ma forse non è un colombo. Restate qui, io vado a vedere. Coccoletto. Venite, venite, Maria sta parlando con qualcuno che non c'è. Qualcuno da sola? Qualcuno c'è, ma non si vede e non si sente. Ma allora chi è? Non lo so, ci conviene ascoltare. No lo so, ci conviene ascoltare. Non lo so, ci conviene ascoltare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.